Una doppia sfida, quella del 16 e 18 aprile, proibitiva per le azzurre della palla a mano. Incontrare in casa loro la fortissima Ungheria non lascia molte speranze di accedere allo step successivo per i campionati mondiali di dicembre in Spagna. Tra le 18 giocatrici convocate in Abruzzo figura anche la terramana Giorgia Di Pietro. La nostra nazionale, che fino a domenica rimarrà ad allenarsi al pala Santa Filomena di Chieti, diventato centro tecnico federale, guarda tuttavia alle due sfide come una tappa di avvicinamento alla prima fase delle qualificazioni Euro 2022 che a giugno le azzurre disputeranno in Grecia, affrontando le elleniche di casa, la Bosnia-Herzegovina e la Lettonia. Ascoltiamo Elena Barani che assieme a Liliana Ivazzi guida la formazione azzurra. Ungheria è una delle squadre che in Europa ha una delle tradizioni maggiori, poi viene da una qualificazione olimpica e ha una squadra molto forte, ha partecipato all'ultima edizione degli europei passando al secondo turno. Sicuramente sulla carta la differenza nel ranking è molto elevata, però noi cercheremo di dare il massimo e assolutamente di cercare di migliorare e di crescere in vista anche degli impegni futuri. A proposito di impegni futuri, a giugno ci sarà un appuntamento importante, questa prequalificazione per gli europei in Grecia e lì potete sicuramente dire di più la vostra. Sì, sicuramente nei turni di prequalificazione di solito affronti delle squadre più o meno alto livello perché questo è un turno di play-off e abbiamo già affrontato un turno di qualificazione, a giugno dobbiamo affrontare la prequalificazione per gli europei, anche quella è una qualificazione che racchiude delle incognite perché la Bosnia dopo tanti anni di inattività internazionale tornerà sulle scene, la Grecia ha un ricambio generazionale, noi cercheremo di essere pronte per sviluppare al meglio la nostra identità e il nostro gioco. Elena Barani è stata una delle giocatrici più vincenti in Italia, è un trofeo prestigioso, uno degli scudetti da te vinti, l'hai vinto in Abruzzo con la maglia del Teramo, ci dici qualche ricordo, qualche sensazione? Beh, sicuramente la vittoria di uno scudetto è uno di quei ricordi che nel cuore ha sempre uno spazio, mi ricordo ancora con molta emozione quella vittoria perché era arrivata al terzo turno dopo che avevamo perso in casa, vinto fuori casa che di solito è una delle cose che non succede spesso perché di solito il fattore campo è importante anche nella palla a mano, alla bella, quindi la partita che decretava in maniera secca il vincitore, eravamo riuscite ad avere la meglio, c'era il palazzetto pieno di persone e in questo momento sembra anche un po' strano pensare a un palazzetto pieno di persone, comunque mi ricordo che tutta la città ha partecipato alla nostra vittoria e eravamo state le eroine cittadine praticamente.